Il presidente degli Stati Uniti di allora, che era Henry Truman, che ritroveremo anche più avanti nelle slide, autorizzò il bombardamento delle centrali, delle basi militari di Hiroshima e Nagasaki con la bomba atomica. Quindi il 14 di settembre, cioè qualche giorno dopo questo famoso 6 di agosto, il Giappone si arrese fino ad arrivare a una resa incondizionata il 2 di settembre, che è quindi segnata come il termine definitivo della Seconda Guerra Mondiale. Da questo momento in poi entriamo in una serie di momenti che, qui vedete le slide, entriamo in una serie di situazioni che hanno fatto seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Essenzialmente quindi c'è da ricondurre sicuramente al 1945 la fondazione dell'ONU. La fondazione dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, è un evento che ha segnato uno spartiacque tra quello che era stato la storia fino a quel momento. Perché già nel 25 di aprile del 1945 i capi di Stato, quindi ancora con la guerra che continuava a infuriare in alcune parti del mondo, alcuni capi di Stato delle principali superpotenze mondiali si erano incontrati a San Francisco per cercare di organizzare una comunità di paesi il cui fine fosse essenzialmente quello di innanzitutto evitare che ci fosse un nuovo conflitto visto che purtroppo ancora il secondo conflitto mondiale non era terminato e si voleva certamente scongiurare che ne insorgesse un altro. E in secondo luogo, la fondazione dell'ONU si è cercato di mettere una serie di priorità come il rispetto del diritto internazionale o comunque il rispetto dei diritti umani e l'aiuto nei confronti dei paesi più in difficoltà. Quindi questi sono gli scopi essenzialmente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ricordate la fondazione nel 1945 a San Francisco. È semplice per noi italiani ricordare la data perché il 25 aprile è anche la festa della liberazione in Italia quindi per noi è abbastanza più semplice. Proseguendo quindi il nostro percorso storico andiamo quindi al 1946 e per noi italiani risulta essere un anno fondamentale perché innanzitutto l'anno in cui quella che era stata una monarchia in Italia viene trasformata attraverso un referendum in una repubblica. viene trasformata in una repubblica attraverso un referendum che vide per la prima volta la vide per la prima volta tra insomma le persone che potevano votare anche le donne quindi segna un duplice motivo di interesse. In primis perché chiaramente da questo momento in poi l'Italia diventa una repubblica. e in secondo luogo perché le donne per la prima volta hanno potuto esprimere il loro voto. Nasce quindi la Repubblica Italiana e ovviamente contestualmente alla nascita della Repubblica Italiana nasce anche la necessità di avere un Presidente della Repubblica. Essenzialmente quindi il primo Presidente della Repubblica è stato, perché ci ha lasciato, Enrico De Nicola. Ovviamente con Enrico De Nicola viene formato anche il primo governo della Repubblica Italiana che era presiduto chiaramente dal Presidente del Consiglio dei Ministri che era Alcide De Gasperi. Queste sono delle figure importantissime della nostra storia e che tutti dovremo conoscere al di là della cultura generale che è l'oggetto di questa nostra chiacchierata motivo per cui credo che sia necessario un chiarimento circa le funzioni del Capo dello Stato. In questo caso ovviamente il Capo dello Stato nell'ordinamento giuridico italiano è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, vi dirò giusto due cose che secondo me sono importantissime proprio in virtù del test e delle domande quindi di cultura generale, il Presidente della Repubblica da chi viene eletto? Viene eletto da una seduta comune del Parlamento, essendo l'Italia una Repubblica parlamentare, e quindi dalla Camera e dal Senato della Repubblica in una seduta comune. A questo plenum vengono aggiunte anche delle rappresentanti regionali che sono rispettivamente tre per ogni regione, eccezion fatta per la Val d'Aosta, che ne ha solo una. Questa è insomma la base elettorale che sceglie il Presidente della Repubblica, perché l'Italia è una Repubblica parlamentare e non una Repubblica presidenziale, per esempio come la Francia. Proseguendo la nostra chiacchierata, andiamo alla prossima slide. Eccoci. Arriviamo quindi al 1947, dove ritroviamo il nostro famoso Harry Truman, che avevamo citato prima a proposito dello sgancio della bomba atomica sulle basi di Hiroshima e Nagasaki. Harry Truman quindi nel 1947, tramite un famosissimo discorso al Congresso americano, segna anche così informalmente l'inizio della Guerra Fredda. Con Guerra Fredda si intende non un vero e proprio conflitto, perché per fortuna mai si è celebrato materialmente, ma si intende una serie di contrapposizioni in natura sociale, culturale, ma soprattutto politica ed economica, tra le due grandi potenze che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, ossia gli Stati Uniti da una parte e chiaramente l'Unione Sovietica dall'altra. Importante e rilevante dire che nello stesso anno in cui, diciamo, inizia la Guerra Fredda, vengono firmati trattati di pace che, diciamo, posero un punto definitivo sull'ombra della Seconda Guerra Mondiale. Proseguendo la nostra chiacchierata, arriviamo al 1948 ed è una data importantissima anche per noi, soprattutto per noi italiani, perché dal primo gennaio del 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana. È importante dire che contestualmente, insomma, a questo evento, diciamo sempre nel 1948, viene eletto Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Io, diciamo che, creando queste slide, ho cercato di dare un taglio in particolare, diciamo, proprio culturale, però soprattutto ho voluto mettere in luce il ruolo dei Presidenti della Repubblica, anche perché ho fatto prima quell'introduzione sul come vengono eletti. Quindi troverete tra le date le varie elezioni dei Presidenti della Repubblica. Infatti, secondo me, è opportuno che quantomeno l'elenco dei Presidenti della Repubblica si conosca. Quindi abbiamo detto che viene eletto Luigi Einaudi e possiamo quindi andare avanti al 1949. Nel 1949, importantissimo, dal patto atlantico, nasce la Nato. La Nato è un'organizzazione che è un'organizzazione innanzitutto di reciproco aiuto, però in termini essenzialmente militari, che viene guidata dagli Stati Uniti e, diciamo, è un'organizzazione di tipo politico-militare di aiuti tra paesi che si rivedono nella visione politica statunitense del tempo e conseguentemente aderiscono a questa comunità. Qualche anno dopo, poi lo vedremo, diciamo che anche la componente sovietica sentirà il bisogno di congregarsi, e di aggregarsi in un patto di questo tipo che prenderà il nome di patto di Varsavia, ma poi lo vediamo. Andiamo quindi un po' avanti al 1950 dove, come nota di merito, c'è da menzionare sicuramente la guerra di Corea. La guerra di Corea segna innanzitutto un evento importante perché per la prima volta, diciamo, si vede in campo, proprio dal punto di vista militare, la NATO, così come si vede già subito la contrapposizione con l'Unione Sovietica che sarà caratterizzante di tutto il Novecento fino al crollo dell'URSS e quindi con quella guerra fredda. Andando avanti, la guerra di Corea ha avuto una durata relativamente breve, sempre si parla di un conflitto di tre anni, e infatti poi nella slide successiva ho segnato anche la fine, nel 1953. Andiamo avanti. nel 1951 ho voluto segnare la fondazione della Ceca con il Trattato di Parigi perché tutte queste comunità, tutte queste, diciamo, congregazioni sono le basi su cui poi si fonderà l'attuale comunità europea, motivo per cui ho ritenuto necessario almeno una menzione. proseguendo la nostra analisi andiamo avanti con le slide. Quindi abbiamo detto, l'ho detto prima, nel 1953 termina la guerra di Corea e ho segnato come nota di merito anche muore il dittatore Stalin perché ovviamente lui era stato il leader dell'Unione Sovietica negli anni della guerra, nonché uno dei tre vincitori della guerra, insomma, uno di quelli che si sono seduti al tavolo dei negoziati post-bellici e quindi ho ritenuto necessario almeno segnare la sua data di morte. Come ho detto prima, nel 1955 si viene a stabilire questo patto di Varsavia. Il patto di Varsavia che fu siglato nella città, insomma, nella città polacca ovviamente ha come scopo creare una congregazione di paesi che potessero dal punto di vista politico-militare opporsi allo, tra virgolette, strapotere della Nato e quindi nasce questa congregazione di paesi diciamo filo-comunisti filo-sovietici per contrapporsi alla Nato. Nello stesso anno io ovviamente ve l'ho già detto riporto le date dei dei presidenti della Repubblica viene eletto Giovanni Gronchi presidente della Repubblica. Proseguiamo la nostra trattazione arrivando al 1957 dove si osserva con i trattati di Roma l'istituzione della comunità economica europea. Questa come abbiamo detto prima con la CECA quindi la comunità del carbone e dell'acciaio sono le basi della moderna Unione Europea quindi motivo per cui ho ritenuto di quantomeno menzionare. Ampliando un po' la panoramica del nostro punto di vista ci da sicuramente uscire da questa visione diciamo europea della della politica e andare quantomeno a dare una menzione alla rivoluzione cubana che vide Fidel Castro nel 1959 prendere il potere anche qui quindi si instaura una un governo diciamo di forte stampo comunista o comunque di forte stampo diciamo di sinistra che trovò chiaramente un appoggio molto rilevante dall'Unione Sovietica ho ritenuto inoltre necessario una menzione del del premio Nobel che il fisico italiano Emilio Segret vinse per premio Nobel per la fisica che vinse infatti troverete nelle slide che ogni tanto menziono anzi non ogni tanto menziono tutti i vincitori dei premi Nobel italiani dal 1950 in poi sempre nel 1959 un celeberrimo autore come Quasimodo vince il primo Nobel per la letteratura tutti abbiamo letto qualcosa di Quasimodo motivo per cui merita sicuramente di far parte di questa mia carrellata continuiamo nella nostra chiacchierata e andiamo a vedere cosa succede nel 1961 nel 1961 viene eretto il muro di Berlino che ovviamente segnerà uno spacco uno squarcio nell'Europa che conosciamo dividendo Berlino addirittura in due in due parti e ovviamente segnando proprio la contrapposizione rappresentando proprio fisicamente la contrapposizione ideologica politica e culturale tra l'occidente e l'occidente diciamo statunitense e l'occidente europeo con l'oriente russo e filo sovietico e o sovietico importante dire che sempre nel 1961 diventa presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy ricordiamocelo perché purtroppo questa 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 persona avrà un triste epilogo sempre nel 1961 un un avviatore sì un avviatore che diventerà quindi un astronauta nel sempre in questo anno che è Yuri Gagarin diventa il primo uomo diventa quindi il primo astronauta ad aver quindi viaggiato nello spazio questo primato appartiene quindi all'unione sovietica e va dato merito a questa attività ok Giuse grande ti interrompo un secondo vediamo un po' di domande che ho visto che stanno arrivando approfitto per bere sì allora vediamo un po' cosa ci chiedono così facciamo un po' di pause partiamo da quelle che vedo prima ma poi risalgo ragazzi e rispondiamo a tutti astronauta o cosmonauta? questa è una differenza prettamente diciamo semantico linguistica io credo che dovrebbero essere sinonimi come come significato in realtà di preciso non lo so però sicuramente è uno di quelli che avendo viaggiato cioè non è atterrato su un astro lui è semplicemente andato nello spazio quindi credo che sia cosmonauta la insomma la terminologia corretta risalgo un attimo allora ci chiedete anche le slide faremo se vi piacciono Giuseppe è formidabile il materiale che crea se vi piacciono troveremo il modo anche di rilasciarvi solo le slide oltre a rivedere il video assolutamente ma troveremo sicuramente la soluzione sì sarà possibile rivederlo sì stiamo registrando chi era Alcide De Gasperi eh Alcide De Gasperi è stato il primo presidente del consiglio della neoformata Repubblica Italiana ci chiedono ma le donne non votarono per la prima volta alle amministrative del 1946 eh questo allora questo dato io non saprei di preciso so per certo che per la prima volta nel referendum del insomma del due giugno nel referendum insomma che vide la trasformazione da monarchia a repubblica le donne giocarono un ruolo rilevante ok quindi balate bene non è la prima volta che votarono in questo in questa anche se bisognerebbe dovrei dovrei controllare esattamente questa questa cosa verifichiamo comunque questa comunque ricordatevi che hanno giocato un ruolo fondamentale in questo in questo evento storico che abbiamo appena citato ok bene vediamo le domande ancora più giù sì nelle amministrative corretto ok ok sì sì è vero l'abbiamo messo nella nazionale è proprio questo bravi ragazzi vuol dire che state facendo le nostre nazionali ottimo bravi bravi torna su un attimo che ho detto qualcosa è opportuno ricordare tutti i premi Nobel allora io direi soprattutto i più importanti magari quelli per la medicina visto che stiamo andando insomma verso quel verso quell'ambito quindi almeno è un mio parere personale poi tutte le cose che si sanno in più è ovvio che è meglio saperle ragazzi ci tengo a dire una cosa ricordatevi che cultura generale è un programma vastissimo Giuseppe è super preparato però non è biologia che comunque si sa cosa studiare quindi ovvio alcune nozioni dovremmo per forza riguardarle ma come è normale come penso che capiate ovviamente ok di diretti non ber per la medicina faremo se non sbaglio più avanti una lezione di cultura generale proprio sui nobel quindi state tranquilli comunque sono tutti inseriti nel cioè li trovate tutti nelle slide quindi la diremo anche in questa in questa presentazione giusto io in ogni anno c'è insomma l'eventuale nobel italiano è chiaramente quello italiano ecco qua questa qui ci pensavi prima Giuseppe c'è una memofrase per i nobel sulla letteratura ci stiamo lavorando ragazzi non è facile immaginate quanti sono non è facile creare una memofrase con così tanti nobel un conto è noi creiamo anche le memofrasi sulla tavola periodica su cose del genere la tavola periodica però gli elementi in un periodo in un gruppo non sono tantissimi i nobel iniziano ad essere tanti ma ci stiamo lavorando ci ingegneremo anche per capire come creare qualcosa del genere ok ragazzi continuiamo con la lezione poi lasciamo un altro spazio per le domande quindi se le fate non vi preoccupate subito dopo rispondere anzi fatele così mi date il tempo per un bicchiere d'acqua noi lasciamo sempre un po' di spazio poi per le domande quindi fatele durante anche la spiegazione poi ci fermiamo e rispondiamo a tutte vai giusto allora ero arrivato al Nobel per la letteratura di no ero arrivato a dire la verità alle elezioni di Kennedy e conseguentemente anche al 1961 con il cosmonauta a questo punto Gagarin andiamo avanti quindi nel 1962 come vi ho detto viene eletto come presidente della Repubblica Antonio Segni e ovviamente è una nota di rilievo come italiano sicuramente ma soprattutto come cittadino sassarese in quanto sapete che Antonio Segni è stato uno dei due presidenti della Repubblica insomma che aveva come città natale Sassari è l'unica città in Italia che ha avuto due presidenti della Repubblica l'altro lo vedremo dopo Francesco Cossiga e quindi risulta essere una nota di merito perché città nemmeno come Roma o come Milano per dire hanno espresso due figure di questo di questo rilievo se qui posso intervenire Giuse è giusto una cosa perché molti ovviamente sono collegati e non sanno ma noi siamo sardi e siamo di Sassari quindi ci tenevamo ovviamente a sottolineare questa cosa per tutti per chiunque fosse collegato ci tenevamo particolarmente certo allora quindi andando avanti arriviamo al 1963 vi avevo detto prestate attenzione alla figura di John Kennedy perché purtroppo viene viene ucciso in un attentato a Dallas questa famiglia in particolare la famiglia Kennedy ha un destino diciamo sfortunato perché diciamo qualche anno dopo esattamente nel 1968 anche se poi non l'ho riportato viene ucciso anche l'altro fratello di John Kennedy che rispondeva al nome di Robert Kennedy quindi attenzione perché a questa famiglia è legata una pagina tragica della storia statunitense proseguendo sempre nel 1963 vince il premio Nobel per la chimica il chimico italiano Giulio Natta proseguendo la nostra trattazione ah leggo una domanda quando viene ucciso il fratello di JFK nel 1968 Robert Kennedy allora nel 1964 quindi proseguendo la nostra trattazione diciamo un evento che è nel nome di incidente di Tonchino anche se questo ovviamente è una cosa che ho riportato ma non è necessario saperlo l'importante è che prende origine insomma la guerra del Vietnam qui c'è sempre una insomma non è sempre chiaro quando si possa segnare l'inizio della guerra del Vietnam perché già da molti anni prima in realtà c'erano delle attività di tipo bellico ma più relative insomma ad attentati o comunque a problemi di questo tipo che non erano una vera e propria guerra conclamata comunque alcuni fanno risalire l'inizio della guerra anche ad anni prima sempre quindi proseguendo la nostra il nostro insomma il nostro percorso arriviamo sempre al 1964 dove purtroppo il presidente della Repubblica che era segni a causa di un problema cerebrale deve insomma lasciare il suo posto e viene quindi eletto come presidente della Repubblica Giuseppe Saraga proseguendo il nostro percorso arriviamo al 1965 dove negli Stati Uniti in particolare in quegli anni anche negli anni dei Kennedy sono dei periodi di estrema tensione sociale soprattutto correlata alla questione razziale che come vediamo purtroppo insomma anche dalle ultime notizie negli Stati Uniti è ancora drammaticamente attuale e quindi degli importanti attivisti in particolare come Malcolm X e qualche anno dopo come Martin Luther King vengono vengono insomma uccisi per la loro attività insomma di promozione di questa dell'integrazione e dell'antirazzismo sempre nel 1968 prende piede in tutto il mondo quel cosiddetto movimento di insomma movimento del 68 che insomma è celeberrimo in tutto il in tutto il mondo dove si osservano delle rivolte di natura prevalentemente studentesca ma in generale giovanile contro un moralismo che imperava nella società del tempo e che ovviamente stava diventando anacronistico con i tempi che correvano sempre andando avanti quindi nella nostra trattazione arriviamo al 1969 che per la prima volta vede un uomo americano arrivare sulla luna è il caso di di amstrong che chiaramente segna un traguardo per tutta l'umanità e particolare per gli stati uniti tant'è che ovviamente insomma lo smacco per l'unione sovietica di non essere arrivata prima sulla luna fu uno smacco veramente notevole quindi andando un po' avanti arriviamo quindi agli anni settanta agli anni settanta osserviamo sempre che termina il mandato di saragat e inizia il mandato di di leone in tutto in tutto il mondo quindi ci sono una serie di insomma condizioni di rivolta condizioni di protesta e in particolare in una regione in particolare in Cile tramite un golpe quindi un attentato al potere prende il prende il comando quindi dal punto di vista militare più che politico Augusto Pinochet questo è un periodo estremamente di insomma di tensioni sociali di tensioni appunto dal punto di vista politico tant'è che anche nel 1974 prende il potere Antonio Salazar in Portogallo che sicuramente non cioè non sicuramente attraverso l'attività politica quanto più con l'attività insomma militare nel 1975 si osserva il termine della guerra del Vietnam ricordiamo che la guerra del Vietnam è stata forse l'unica reale sconfitta degli Stati Uniti dal punto di vista militare e ovviamente con una perdita immensa di soldati e soprattutto di giovani più che prima ancora che di soldati tant'è che molto molto della tensione sociale che interavano gli Stati Uniti era correlabile anche ovviamente alla richiesta di cessare le ostilità in particolare in Vietnam nello stesso anno quindi nel 1975 un italiano Renato Dulbecco vince il premio Nobel per la medicina e sempre nello stesso anno Eugenio Montale vince il premio Nobel per la letteratura quindi sicuramente una nota di merito per questo anno nel 1978 in particolare avvengono una serie di stravolgimenti in Italia che segneranno per sempre la storia e la politica del nostro paese in particolare innanzitutto uno che riguarda il Papa perché viene eletto Papa Giovanni Paolo II quindi il Cardinale Karol Wojtyla che era un che era un cardinale polacco quindi diventa per la prima volta dopo tantissimi anni il primo Papa non italiano quindi nello stesso anno si osserva uno dei momenti più drammatici e più insomma più cruenti della vita politica e sociale nel nostro paese segnato dal rapimento Moro Moro era una figura di spicco della politica italiana un po' come possono essere i politici più famosi di ora e venne insomma rapito da insomma da una comunità di terroristi che erano i brigatisti quindi le brigate rosse abbreviate come BR che proprio essendo una un'organizzazione di matrice insomma comunista e insomma matrice più che comunista insomma terrorista non vedeva di buon grado una possibile alleanza di Moro che rappresentava la democrazia cristiana con i comunisti per formare un governo motivo per cui questi terroristi reputarono colpevole Moro di insomma di aver tradito quelli che erano i valori innanzitutto della democrazia cristiana quanto ovviamente dei comunisti motivo per cui stabilirono che era necessario che lui venisse rapito che venisse insomma detenuto in condizioni barbare e che poi fosse ucciso barbaramente e fatto ritrovare in un'automobile parcheggiata in una strada in questo contesto diventa presidente della Repubblica il il primo vero insomma socialista tra i presidenti che era Sandro Pertini Sandro Pertini è stato uno dei presidenti insomma più amati e più più importanti della storia politica della storia politica del nostro paese vado avanti poi Pier guardiamo un attimo le domande o le facciamo adesso? le guardiamo ora ok te le faccio io così prendi fiato come procede ragazzi? state vedendo quanto è preparato Giuseppe molti me l'hanno chiesto qualcuno me l'ha chiesto prima Giuseppe sarà uno di tutor che sarà presente sia la summer e si occuperà anche di cultura generale quindi chi farà la nostra summer avrà anche a disposizione nell'orari fuori dalla lezione ovviamente anche Giuseppe che è super forte qualcuno me l'ha chiesto prima allora vediamo un po' le domande perché è stato ucciso Aldo Moro perché purtroppo questi terroristi hanno reputato Moro colpevole di alterare quelli che erano stati i valori sia della democrazia cristiana di cui era segretario sia del partito comunista perché questi brigatisti essendo dei terroristi di estrema sinistra non vedevano di buon grado l'alleanza tra la democrazia cristiana e i comunisti ci chiedono quando inizierà la summer Mario se volete dopo lascio una piccola parentesi ve ne parlo comunque la summer inizia è un percorso che inizia il 27 di luglio e vi porterà fino al test però dopo magari dopo la spiegazione chi vuole mi può fare le domande ve ne parlo così continuiamo le spiegazioni vediamo un po' nel 74 termina il regime di Salazar ci chiedono con la rivoluzione va bene questa qui l'avevi già detto per cosa sono stati vinti i premi Nobel per la medicina questa è una domanda estremamente perché innanzitutto i lavori scientifici per cui vincono i premi non sono semplicemente cioè sono dei lavori scientifici articolati quindi sono composti da varie da varie insomma da varie parti e quindi hanno anche nomi complessi e poi sono molto spesso lavori associati di più figure quindi in qua posso intervenire anche io nel senso che premi Nobel ma anche premi nella medicina si hanno anche in ambito chirurgico io ve lo posso dire questo perché al momento sto facendo una tesi proprio chirurgica è inutile articolare e spiegare realmente per cosa è stato vinto quel premio perché può essere una chirurgia per esempio superfine dove mi insegnano a non asportare un piccolo pezzo di parte corporea quindi è difficile anche da riassumere in un piccolo concetto capite? certo poi in generale per esempio l'ultimo è stato vinto nel 2007 questo è solo un esempio è l'ultimo che mi ricordo ed era sulle cellule staminali poi voi capite bene che cellule staminali è un mondo immenso dove chi l'ha vinto ha sicuramente centrato un determinato argomento e l'ha eviscerato in maniera estremamente competente quindi esatto vediamo andiamo ancora più in alto che regime era quello di Pinochet beh era un regime di stampo comunista di stampo insomma molto imperialista comunque sicuramente non un regime di tipo democratico tant'è che ha preso il potere con un golpe ok c'era un premio Nobel nel 69 dicono medicina Salvatore Luria dovrebbe averlo vinto per la chimica ok quindi non per la medicina torniamo un attimo riguardiamo ragazzi per la medicina no per la medicina avete ragione perdonatemi è corretto è qualche sì è giulionatta nel nel 63 dov'è nel 63 ah eccolo esatto abbiamo un altro Nobel vedette nel 63 per la chimica però è giulionatta ok andiamo più su ok non c'è altro scendiamo giù vediamo se sono arrivate altre cose parliamo Miriam dopo ti dico comunque Geografia quest'anno non è nominata non era nominata nemmeno l'anno scorso quindi ci aspettiamo che non ci siano domande però ci aspettiamo è sempre diverso cioè questa è la nostra previsione dal bando da quello che c'è scritto ma chissà è gratuito il becco è lo zio della mia prof caspita che prof ok qui ci propongono Memonix ah ok poi li valutiamo comunque passate lì nel ragazzi studiatevi perché ok guarda un po' credo che abbiamo risposto praticamente a tutto dobbiamo ancora arrivarci al 2007 quindi ne parliamo dopo 2012 ne parliamo dopo ok guerra a Vietnam USA allora allora ok quindi poi vediamo cos'è il bipolarismo allora innanzitutto la guerra del Vietnam vide il contrapposto Vietnam del nord Vietnam si del nord e Vietnam del sud ognuna delle due diciamo spalleggiata da insomma regime sovietico quindi dall'URSS in particolare il Vietnam del nord e il Vietnam del sud invece sostenuto dal dal regime insomma dalla NATO i motivi sono essenzialmente una serie di attentati di tipo terroristico che hanno portato a un escalation della guerra e essenzialmente quindi diciamo che diciamo se vogliamo trovare la contrapposizione guerra del Vietnam USA è direi USA è URSS perché è il teatro della guerra fredda insomma cos'è il bipolarismo il bipolarismo si intende una condizione insomma una insomma sì proprio una condizione in cui fino a qualche anno fa c'era un'alternanza continua tra i governi di destra e i governi di sinistra questo perché governare si dice sempre governare impopolare quindi il governo di una determinata parte politica portava all'elezione successiva alla vittoria dell'altro oggigiorno purtroppo per fortuna insomma dipende dalle opinioni politiche questo bipolarismo è stato un po' diciamo messo da parte perché ora non c'è un'alternanza così netta destra-sinistra in quanto ci sono forze centriste o filocentriste come il Movimento 5 Stelle che per esempio non è così schierata insomma allora Giulia ti rispondo io su geografia appunto per quello che ti dicevo non sappiamo cosa aspettarci perché nemmeno l'anno scorso nel bando non era citata geografia ma come mi dici tu c'erano domande quindi non ci possiamo aspettare io mi rifaccio al bando a quello che è uscito quest'anno geografia non è citata quindi ovvio che vi dico di non prestare troppa attenzione su geografia perché presumo che mettano le domande sulle cose già citate nel bando cioè non vuol dire capendo che cultura generale è una cosa vastissima e non si delimita bene degli argomenti voi potete capire che c'è un mondo da studiare però noi ci focalizziamo sulle cose che reputiamo più importanti che derivano da una lettura approfondita del bando giusto questo ok continuiamo con la spiegazione intanto ragazzi perché poi abbiamo anche un po' di quiz a farvi fare iniziamo anche logica vai giusto allora eravamo arrivati quindi a Pertini abbiamo detto due parole di Pertini andiamo avanti quindi di rilievo insomma bisogna dire che nel 1979 Margaret Thatcher quindi la lady di ferro diventa il primo ministro insomma in Inghilterra quindi in Gran Bretagna proseguendo nel 1980 ha voluto sottolineare un evento drammatico che ha colpito il nostro paese che è stato il terremoto dell'Irpinia un terremoto che ha squassato praticamente tutta l'Italia centro-meridionale e in particolare la zona della Campania e così via che ha quindi causato una serie di danni gravissimi di natura sociale ed economica in queste zone sempre nel 1980 prosegue questo periodo drammatico della storia italiana con la strage di Bologna strage nella quale un gruppo di neofascisti pose dell'esplosivo nella centrale nella centrale insomma nella stazione centrale di Bologna causando numerosissime vittime si parlava di circa 80-85 vittime ed è stato veramente uno dei punti più bui della nostra storia nell'81 c'è il celebre insomma attentato a Giovanni Paolo II che è stato sparato quindi segna un evento che non era mai successo perché non era mai accaduto un attentato al Papa nell'82 sì c'è la guerra delle Falkland insomma questo conflitto si è combattuto per esempio senza per esempio si è combattuto tra l'Argentina e insomma la Gran Bretagna per il possesso delle isole Falkland ma diciamo che l'ho messa lì come nota di merito non tanto perché sia così importante e nell'82 l'Italia diventa campione del mondo di calcio per la terza volta questo per ovviamente io sono appassionato di calcio però non è non lo dico solo per la mia passione per il calcio quanto perché può capitare quanti campionati del mondo ha vinto l'Italia ne ha vinti quattro proseguendo sempre ho messo sempre i nostri Nobel il fisico Carlo Rubbia vince il Nobel ovviamente per la fisica andiamo avanti quindi nel 1985 abbiamo il secondo presidente della Repubblica sassarese che era Francesco Cossiga sempre democristiano quindi ha giocato anche un ruolo importantissimo nella politica nazionale oltre che ovviamente a livello locale nello stesso anno insomma c'è una forte spinta rinnovatrice all'interno del partito comunista dell'Unione Sovietica sintetizzato da PCUS che vide insomma l'elezione del di Mikhail Gorbachev a capo del partito comunista che darà inizio a una serie di modifiche dell'ordinamento giuridico e del funzionamento statale dell'URSS che prendono il nome di perestroica sempre nel 1985 abbiamo il primo e unico vincitore del Nobel per l'economia italiano che fu Franco Modigliani sempre nel 1986 abbiamo un evento gravissimo per tutta l'Europa che è l'esplosione del reattore del quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl nell'attuale Ucraina questo segna innanzitutto un evento drammatico perché il primo vero gravissimo incidente nucleare che avviene nel mondo un altro gravissimo sarà quello della centrale di Fukushima in Giappone di qualche anno fa in particolare questo lo dobbiamo tenere a mente perché risulterà uno dei insomma dei primi fallimenti veri dell'Unione Sovietica ed è si pensa che di qui a poco la caduta dell'Unione Sovietica possa avere come base la proprio tutta la negligenza e tutti gli errori dietro a questo disastro di proporzioni epocali sempre nel 1986 inizia il maxiprocesso quindi un processo di natura mai vista finora contro Cosa Nostra e quindi contro l'organizzazione mafiosa in Sicilia viene insomma viene fatto a Palermo e i giudici sono celebri famosissimi in tutta Italia sono i giudici Falcone e Borsellino ma anche tanti altri insomma prendono parte a questo processo sempre nello stesso anno quindi nel 1986 Rita Levi Montalcini vince il premio Nobel per la medicina in questo caso mi ricordo qual era insomma il campo di applicazione della Levi Montalcini essendo lei insomma una neurologa comunque una studiosa del sistema nervoso centrale il Nobel lo vinse per degli studi sui neuroni il sempre mandando avanti nel 1989 arriviamo finalmente al crollo del muro di Berlino che aveva insomma diviso l'Europa e la città di Berlino stessa per tantissimi anni ricordate infatti che era dal 1961 che era esistente andiamo avanti stiamo per terminare ci avviamo verso gli anni 90 e dobbiamo sicuramente dire che negli anni 90 abbiamo una serie di modificazioni importantissime di modificazioni importantissime sì parecchio importanti per per l'Unione Europea e soprattutto per la comunità in cui viviamo ora innanzitutto nel 90 da menzionare c'è l'inizio della prima guerra del Golfo con l'invasione dell'Iraq da parte di una coalizione a guida statunitense sempre negli anni 90 cioè negli anni 90 ovviamente negli anni 90 nel 1990 viene riunificata la Germania e in particolare c'è da dire che tra il 90 e il 91 l'evento fondamentale è la dissoluzione totale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche diciamo che viene terminata nel 1991 quindi si segna come data diciamo di soluzione dell'URSS il 1991 però è un fenomeno che è durato anche degli anni prima è durato qualche tempo prima iniziato diciamo proprio nel 90 è proseguito tutto l'anno e ha visto proprio disgregarsi quelle che erano state tutti gli stati che avevano fatto parte dell'URSS sempre in quest'anno vengono tramite gli accordi di Schengen aboliti i controlli alle frontiere tra i paesi dell'Unione Europea questo ovviamente segna un passaggio importantissimo perché noi oggigiorno vabbè coronavirus a parte potremo muoverci senza alcun limite tra i paesi dell'Unione e se possiamo farlo è solo grazie a questi trattati nel 92 tramite i trattati di Maastricht la Comunità Economica Europea diventa ufficialmente Unione Europea e quindi diciamo come la conosciamo attraverso un altro trattato che è il Trattato di Lisbona viene l'Unione Europea viene convertita in Comunità Europea sempre nel 1992 conosciamo l'epilogo della vita e dell'attività professionale dei due giudici Falcone e Borsellino che sono stati brutalmente uccisi da Cosa Nostra sempre nel 92 Scalfaro diventa Presidente della Repubblica e scoppia sempre in questo anno lo scandalo di Tangentopoli lo scandalo di Tangentopoli che vide un pool quello chiamato il pool di Mani Pulite in cui essenzialmente tre famosissimi magistrati ossia Antonio Di Pietro Gerardo Colombo e Pier Camillo Davigo tentarono di scardinare un meccanismo corrotto in cui sguazzava la politica del tempo che ovviamente ha portato al passaggio dalla prima alla seconda Repubblica andando avanti arriviamo al 1995 dove purtroppo si osserva il massacro di Srebrenica nella guerra della divisione nel tutto quel processo estremamente complesso che è stata la divisione di quella che fu la Jugoslavia questo ovviamente prende origine dopo in primo luogo dopo la morte del generale Tito ma in secondo luogo dopo la dissoluzione dell'URSS che aveva comunque ovattato e aveva comunque messo un po' un tampone un po' insomma limitato la dissoluzione della Jugoslavia nel 97 vabbè oltre a essere l'anno di nascita del sottoscritto quindi una data di merito in questo senso più importante di questo c'è sicuramente il premio Nobel a Dario Fo quindi il premio Nobel per la letteratura nel 99 rilevante moltissimo per la vita che facciamo tutti i giorni nasce quindi viene inventato l'euro e ovviamente una moneta unica era l'obiettivo della comunità europea sempre nel 99 una persona che tutt'oggi riveste un ruolo chiave nella politica internazionale ossia Vladimir Putin un esponente che aveva fatto carriera all'interno del KGB diventa diventa primo ministro sempre nel 99 viene eletto presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi arriviamo quindi al ventunesimo secolo arriviamo quindi al 2001 dicendo che gli Stati Uniti piommano nel terrore perché purtroppo dei terroristi hanno deciso di attaccare le sedi del potere americano e le sedi in generale della nostra cultura hanno deciso infatti l'11 settembre 2001 di colpire il World Trade Center quindi le Torri Gemelle oltre che il Pentagono e la Casa Bianca o il Campidoglio per fortuna ovviamente questi alcuni di questi attentati sono stati insomma sventati o comunque diciamo non sono andati per fortuna a bersaglio purtroppo quello delle Torri Gemelle è stato un disastro che portò quindi anche a numerose e nuove vittime perché poi gli Stati Uniti decisero di dichiarare guerra al terrorismo e poi sappiamo tutto quello che comporta dal 2002 inizia la libera circolazione dell'euro come moneta e quindi questa è sicuramente una data importante e sempre nello stesso anno Riccardo Giacconi vince il premio Nobel per la fisica nel 2003 scoppia la seconda guerra del golf avevamo visto che la prima era scoppiata nel 1990 proseguendo rapidamente vediamo che nel 2004 c'è un un evento drammatico che lo tsunami che ha colpito diciamo tutta la porzione asiatica insomma in particolare l'Indonesia è stata flagellata da questo evento da questa calamità naturale che ha portato a un numero esorbitante purtroppo di vittime e chiaramente di danni andando avanti arriviamo insomma ad argomenti più leggeri come la vittoria dei mondiali nuovamente nel 2006 e nel 2006 sempre viene eletto presidente della repubblica Giorgio Napolitano Giorgio Napolitano che è stato rieletto anche nel 2012 e quindi è l'unico presidente della repubblica italiano ad aver esercitato la propria carica due volte andiamo avanti e terminiamo nel 2007 Mario Capecchi vince il Nobel per la medicina ed è quello che vi dicevo io sulle cellule staminali mentre nel 2009 diventa per la prima volta presidente della repubblica una persona di origini afroamericane tant'è infatti che Obama era nato e è nato a Honolulu e quindi è una figura insomma afroamericana e questo segna uno spartiacco perché non era mai successo nella storia degli Stati Uniti questa era l'ultima slide io avrei finito aspetto un po' le domande se ci sono insomma dei chiarimenti da fare ancora si conclude la parte di cultura generale ragazzi si conclude ora tra pochissimo con dei quiz finali e poi iniziamo con Logical che è solo quiz dove vi spiego poco per le 20 cerchiamo di finire dove vi spiego qualche metodologia ci chiedono qualche domanda Giuse poi ripete la storia del 1992 allora nel 1992 quindi l'evento uno degli eventi importanti è sicuramente l'uccisione barbara dei giudici Falcone e Borsellino da parte di Cosa Nostra altra cosa che avviene sempre nel 1992 è la conversione dell'Unione Europea da insomma da comunità europea a Unione Europea con i trattati di Maastricht altra cosa che succede nel 1992 di rilievo poi ne succedono tante altre è ovviamente lo scoppio dello scandalo di Tangentopoli che vide implicati i principali attori della politica italiana nonché ovviamente anche della magistratura italiana quindi questo è il 92 1982 chi vince il Nobel allora lo mettiamo subito eccolo qua nel 1982 nell'84 il primo il più vicino insomma vince Carlo Rubbia il Nobel per la fisica nell'84 però non nell'82 ok allora vediamo un po' le slide dove le possiamo rivedere ragazzi faremo non lo so in un momento cerchiamo di fornirvele magari ora capiamo bene dove sicuramente il video lo mettiamo su YouTube quindi tranquillamente lo rivedete là cerchiamo di fornirvi anche le slide voglio approfittarne per dirvi una cosa tutti questi contenuti qua poi li riposteremo anche nelle nostre pagine come la nostra pagina Instagram di Tutor Wow quindi se non la seguite andatela a seguire perché dalla prossima settimana ci saranno i contenuti anche di cultura generale ma già chi la segue vede tutti i contenuti che pubblichiamo ogni giorno allora la seconda guerra del golfo inizia nel 2003 mentre differenza tra glasnost e perestroica queste sono domande diciamo non vi servono più che non servono per il test oltre che ovviamente molto molto specifiche dicembre 2015 accordo Parigi vincono ok ok ragazzi io direi di passare ora un po' di quiz vi diamo 5 minuti di tempo per svolgere 15 domande sono di cultura generale quindi dovreste dovreste fare rapidi e poi le correggiamo pronti? via da ora ok ottimo allora se le vedete Giuseppe inizierà dalla prima ok quindi seguitele in ordine ovviamente e vediamo allora ma la prima direi che siete andati tutti molto bene quindi la risposta è 1986 abbiamo visto prima cosa è successo l'esplosione del reattore di Chernobyl tra l'altro ieri per più interessati c'era la storia il racconto di Chernobyl sull'assette è bellissimo io vi consiglio a tutti di guardarlo c'erano le prime due puntate sicuramente continuerà ma interessantissimo a me è piaciuto tantissimo sì sì ragazzi guardatelo perché veramente la cultura generale si fa cioè si impara così a parte le date che vanno un po' studiate ma le cose si sanno in questa maniera quindi mi raccomando sempre sull'assette a vedere Chernobyl quando è stato costruito il muro di Berlino 1961 bravi perché c'era anche il distrattore 1989 quella è la data in cui è stato abbattuto insomma chi è stato il primo presidente della Repubblica Italiana qui ci sono un po' di errori perché vi siete confusi con Alcide De Gasperi Alcide De Gasperi è stato il primo presidente del Consiglio non il primo presidente della Repubblica attenzione a questa distinzione perché è una distinzione sostanziale sono completamente due figure diverse anche dal punto di vista giuridico quindi prestate attenzione in che anno è stato compiuto il rapimento moro bravi qua 1978 niente da dire bravi quindi quando è stata quindi l'ONU abbiamo detto l'organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945 bravi a San Francisco subito dopo insomma la fine della guerra mondiale in realtà la sua costituzione era iniziata già durante la seconda guerra mondiale la fine della seconda guerra mondiale in che anno scoppia lo scandale di Tangentopoli bravi quindi 1992 quindi ve lo ricordate abbiamo una domanda quando De Nicola e De Gasperi sono stati eletti non era stata emanata la costituzione quindi non sarebbe un errore? insomma questa è una una bella domanda ragazzi può essere considerato in realtà potremmo anche considerarlo però non saprei di preciso cioè dal punto di vista giuridico si può considerare un Presidente della Repubblica solo dopo il 1948 perché ovviamente la costituzione è entrata in vigore il primo gennaio 1948 o se si possa considerarlo anche già dal 46 quando è diventato una Repubblica questo è una una sfaccettatura insomma una precisazione andiamo un po' avanti ci chiedono aspetta eccolo ok ok quindi in che anno ha preso il potere con un golpe nel 1973 Pinochet è stato un politico insomma sì un politico che ha influenzato la storia in particolare del Cile ovviamente avendo preso il potere con un golpe e quindi attraverso un'attività di tipo militare non non possiamo considerarlo insomma democraticamente eletto e quindi diciamo una figura controversa della nostra della storia insomma del mondo quando viene creato l'Euro nel 99 bravi perché c'è anche il 2002 che invece è l'anno in cui è iniziato a circolare quando è iniziata la seconda guerra del golfo nel 2003 bravi ok quanto dura la carica del Presidente della Repubblica abbiamo fatto qualche errore e 5 anni è la durata delle cariche dei senatori e dei deputati quindi prestate bene attenzione perché il Presidente della Repubblica sta in carica 7 anni e tra l'altro siccome c'è un equilibrio di questi poteri perché il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento però essendo la durata del mandato del Presidente della Repubblica 7 anni sopravvive al Parlamento quindi va oltre anche la durata del Parlamento e quindi questo dal punto di vista giuridico è una garanzia di insomma di equilibrio cosa che la nostra Costituzione garantisce in maniera esemplare chi è stato il secondo Presidente della Repubblica bravi e in Audi anche qua una netta prevalenza chi è stato il Premio Nobel per l'economia modigliani sempre ottimo in che anno è stato ucciso Robert Kennedy qui attenzione perché qui ho voluto veramente provare a imbrogliarvi perché ho scritto Robert Kennedy quindi non il fratello e l'anno l'ho solo citato non c'è nelle slide e il 1968 comunque la maggior parte ha risposto correttamente in che hanno iniziato il maxiprocesso alla mafia nel 1986 sempre bravi e poi che scopo aveva il patto di Varsavia qui abbiamo per la prima volta degli errori che vanno oltre quelli che hanno risposto correttamente perché lo scopo del patto di Varsavia era quello di contrapporsi allo strapotere della Nato non dell'ONU perché più che cioè tra i due tra l'ONU e la Nato quello che ha un interesse insomma di natura politico-militare è molto più la Nato dell'ONU che invece ha degli scopi come garantire la pace come insomma rispettare il diritto internazionale eccetera ok ragazzi spero che vi sia piaciuta la domanda la lezione con Giuseppe come avete visto super preparato in cultura generale è uno tra i due ero più forti che abbiamo è davvero preparato ma ora io direi invece di iniziare a vedere un po' di logica e ora arriva il bello vi abbiamo un po' attivato la testa abbiamo un po' siamo entrati nel clu della lezione ora vi mando direttamente a fare dei quiz che poi insieme a me vedremo di correggere insieme siete pronti? ti fanno i complimenti sì la so Giuseppe è fortissimo se avete le ultime domande da fare veloci a Giuseppe proprio scrivetela al volo ma vi ripeto avremo altre occasioni per rivederlo sia nei webinar ma anche alla summer e ai nostri corsi direi di iniziare di iniziare logica via ok tutti ti ringraziano grazie grazie ci fanno una domanda vediamo un po' Armando allora perché diciamo è stata proprio un'anomalia il fatto che sia stato eletto diciamo perché la seconda carica è durata molto meno in realtà nel regolamento c'è nel regolamento insomma il costituzionale dovrebbe fare una sola carica al presidente della repubblica con Napolitano viste le condizioni politiche del tempo è stato diciamo prolungato il suo mandato con un secondo mandato motivo per prima motivo per cui ovviamente è durato meno e poi lui ovviamente si è dimesso per correttezza vanno sapute le diverse forme di governo Giuseppe secondo te? no secondo me no ok bene ragazzi partiamo con logica arrivano i quiz sono otto quesiti ragazzi vi do dieci minuti sono abbastanza difficili ma dai cercate di ragionarci insieme intanto alcuni erano abbastanza complessi è vero ma vedrete che ora vi do le soluzioni corrette per ognuno di quelli che avete fatto ok allora vi interrompo il quiz e vi metto una presentazione allora vi do le risposte corrette man mano che vediamo i quiz partiamo con le soluzioni ora provo un po' a spiegarveli vediamo il primo che avete fatto quasi tutti corretto volevo dire la risposta corretta è la quindi bravi è questa la risposta corretta ma capiamo un metodo veloce per farlo io quello che spiego ai miei corsi e consiglio sempre di utilizzare un minimo comune comune multiplo nei quiz sul lavoro cioè questi sono i quiz classici sul lavoro dove abbiamo tre operai in questo caso abbiamo tre pasticceri che compiono un lavoro in tempistiche differenti quello che spiego io semplicemente è andare a prendere un'unità di misura di tempo che è data al minimo comune multiplo delle tre tempistiche abbiamo tre operai che coprono il lavoro come vedete in 4, 6 e 12 ore cioè A chiamiamo Gianluca A lo farà in 4 ore B lo farà in 6 e C lo farà in 12 cosa fanno in 4, 6 e 12 ore? cucinano 300 bignè quindi questi qua io li rapporto a un unità di tempo che è data dal minimo comune multiplo che sarà 12 di questi tre numeri quindi io so che in 12 ore quindi mettiamo qui 12 anzi lo mettiamo che vale per tutti quindi vi dico semplicemente che in 12 ore che vale per tutti C ovviamente farà 300 bignè B ne farà il doppio perché se in 6 ore ne fa 300 in 12 ore ne farà 600 ci siete con questo ragionamento mentre A ne farà il triplo perché se ne fa 300 in 4 ore ne farà in 12 ore ne farà addirittura 900 quindi in totale questi tre pasticceri lavorando insieme faranno 900 più 600 che fa 1500 più 300 1800 bignè quindi impiegheranno tutti e tre insieme 1000 faranno 1800 100 bignè in 12 ore e a questo punto facciamo una semplice proporzione 1800 sta a 12 come 4500 sta a x a questo punto ovviamente per risolvere la proporzione faremo x uguale a 4500 per 12 diviso 1800 questa magari che è la prima ve la svolgo tutta così capita anche metodi veloci qui eliminiamo gli zeri e questo va via il 12 e il 18 si possono tutti e due semplificare per 6 e quindi 12 diviso 6 mi darà 2 e 18 diviso 6 mi darà 3 45 diviso 3 si può lo stesso semplificare qui da 1 e il 45 diviso per 3 mi darà 15 15 per 2 30 vi ho anche svolto l'operazione eccolo qua finito il problema guardo le domande ora io ho calcolato quanti ne facevano in un'ora e poi ho diviso il bignè per quelli fatti in un'ora va benissimo Nadia anche questo è un ottimo metodo ovvio che in logica esistono più metodi e ci sono anche più strade che portano alla stessa soluzione se tu ti trovi meglio con quel metodo che ho utilizzato va bene io ve ne ho dato uno puramente logico dove non bisognava utilizzare né frazioni né matematica in modo da attivare solo la testa ricordate che è registrato quindi questo webinar viene registrato quindi se lo volete rivedere il metodo che ho utilizzato lo potrete rivedere così non lo ripeto corriamo andiamo anche più veloce che immagino abbiate già fame allora sono arrivato a 900 600 e 300 perché ho utilizzato come minimo comune multiplo 12 ore 12 ore nel senso che C so che in 12 ore cioè Piero in 12 ore fa 300 bignè B che era Vincenzo in 6 ore ne faceva 300 in 12 scusami in 6 ore ne faceva 300 sì in 12 ore invece ne fa 600 il doppio A invece se ne fa 300 in 4 ore ne farà 900 cioè il triplo in 12 ore ho sommato questi numeri qua e mi hanno dato 1800 quindi tutti e tre insieme lavorando insieme fanno 1800 bignè in 12 ore dovevo capire quanto ci mettevano a fare 4500 bignè ok ottimo Daniele va bene anche quel metodo che ho utilizzato tu ho appena letto spero di essere stato chiaro ragazzi ne facciamo anche il prossimo era sul lavoro ora riesaminiamo il metodo che ho utilizzato lo vediamo anche nel prossimo allora aspettate che cambio allora questo qui è uguale identico al processo ragazzi ora ve lo spiego in questo caso abbiamo tre marinai che sbucciano un sacco di patate uno ci mette 6 ore al solito ci chiamiamo A e ce ne mette 6 di ore a fare un sacco B ce ne metterà 8 c'è scritto nel testo e C ce ne mette 12 la cosa difficile di questo quesito è che non abbiamo il minimo comune multiplo già dato nel senso che io vi ho detto che utilizzo sempre negli esercizi sul lavoro di logica il minimo comune multiplo per mettere a paragone i vari termini o per mettere a paragone i vari lavori che fanno i vari operai in questo caso i marinai e in questo caso il minimo comune multiplo ce lo dobbiamo calcolare è il minimo comune multiplo CM di 6,8 e 12 è 24 ragazzi ok quindi in 24 ore A quanto farà? 24 diviso 6 fa 3 quindi in 24 ore A sbucerà 3 no scusatemi 4 24 diviso 6 fa 4 ovviamente e quindi A sbucerà 4 sacchi di patate B invece ne sbucerà 3 perché 24 diviso 8 fa 3 e C ne farà 2 per un totale di 4 più 3 7 più 2 9 insieme sbucciano 9 sacchi di patate in 24 ore giusto? ora la nostra solita proporzione quindi 9 sta a 24 come 33 che è quello che dobbiamo trovare 33 sta a x a questo punto risolviamo la nostra proporzione che non ve la risolvo come prima nel senso che bisognerebbe fare semplicemente 33 per 24 diviso 9 ok? e vi dico già che x è uguale a 88 ditemi se ci siete cioè la proporzione si divide si risolve in questo caso facendo 33 per 24 diviso 9 e fa già 88 prima vi ho fatto vedere un po' di calcoli ma ora non ha senso che mi metta lì a fare i calcoli ok ragazzi come ti è venuto 24? Sara ti ha risposto Riccardo grazie Riccardo ho fatto il minimo comune multiplo tra 6, 8 e 12 io utilizzo sempre questa regola di mettere in comune i vari termini i vari lavori degli operai con il minimo comune multiplo credo che sia molto utile ok ve ne ho messo per insegnarvi questa tipologia di quesito che esce tantissimo ragazzi nei test ma quando la imparate state tranquilli che sono punti facili che vi portate a casa quindi è fondamentale impararla questa tipologia di quesito e ve ne ho messo un ulteriore un terzo in modo che impariate ma qui qui ci sono le proporzioni da fare un altro conto ora ve lo spiego non hai capito la proporzione quale proporzione questa questa proporzione non è altro che 9 che sono i sacchi di patate sbucciati dai 3 operai in 24 ore vedi A ne sbuccia 4 in 24 ore B ne sbuccia 3 C2 quindi se li sommo da 9 li ho messi in proporzione al tempo quindi appunto alle 24 ore e io devo capire quanto ci mettono a sbucciarne 33 e quindi metto sempre 33 che sono i sacchi di patate che devono sbucciare in proporzione al tempo quindi sta a x Domenico va benissimo anche il tuo procedimento se per te ti è utile l'hai ben chiaro va bene arrivi lo stesso alla soluzione quindi assolutamente io non pretendo di imporre il mio metodo assolutamente però ovvio questo qui è che vi sto insegnando un metodo molto molto logico chiamiamolo così dovete solo ricordare la regola che c'è il minimo comune multiplo per mettere in proporzione i vari lavori ma quello con le frazioni che applicate o anche quello con le regolette che sta applicando Domenico va bene uguale dopo ci puoi rimettere i risultati del nostro quiz per vedere quante ne abbiamo fatte giuste certo Franci dopo ve le metto continuiamo a rispondere per ora assolutamente allora vediamo questa qui voglio spiegarvi una cosa allora innanzitutto abbiamo 32 operai svolgono un lavoro in 12 giorni vedete 32 operai 12 giorni attenti perché vabbè ora vi spiego un po' la metodica che si utilizza qua ma voglio chiarirvi un concetto che è puramente di matematica ma serve tanto anche in logica che è delle proporzioni noi dobbiamo ricordare che esistono due tipi di proporzioni quelle dirette o quelle inverse chiamate anche direttamente proporzionali o inversamente proporzionali quelle dirette sono quei tipi di proporzioni che dove abbiamo che al crescere di un elemento cresce anche l'altro quelle inverse invece o indirette abbiamo che al crescere di un elemento l'altro diminuisce ma ora vi faccio degli esempi pratici un esempio è molto banale questo qua io compro 5 mele e so che costano 2 euro quanto costano 10 mele in questo caso so che devo impostare una proporzione diretta perché perché se io compro 5 mele che costano 2 euro 10 mele costeranno di più quindi costeranno in questo caso 4 euro sono il doppio quindi al crescere della quantità di mele di mele cresce il prezzo ok e questa è una banalità e quindi è ovvio è una proporzione diretta ma esistono anche le proporzioni indirette dove un esempio può essere il fatto che un operaio un muratore in bianca una casa in due giorni quanto ci metteranno due muratori a imbiancare la stessa casa in questo caso capisco ma mentalmente devo lavorare devo ragionare capisco che è una proporzione indiretta perché perché due muratori ci metteranno meno tempo a imbiancare una casa quindi in questo caso al crescere una quantità diminuisce l'altra un muratore ci mette un giorno oppure un muratore ci mette due giorni due muratori invece ci metteranno un giorno e quindi questa è una proporzionalità indiretta e ora vi spiego perché ve lo sto dicendo ve lo sto dicendo perché in questo caso vedete il quesito si applica una proporzionalità indiretta perché 32 operai impiegano 12 giorni il quesito mi chiede quanto ci mettono 48 operai quindi sicuramente ci metteranno meno di 12 giorni e questo vi fornisce già uno schema per scartare delle risposte cioè ci metteranno meno 48 operai ci metteranno meno di 32 operai a fare questo lavoro quindi potremmo già eliminare e questo è utile a finire test ragazzi potremmo già eliminare il 16 ok come si risolve poi la proporzione da scrivere che io consiglio sempre quando una proporzionalità è indiretta quello quello che chiamiamo col termine sta tipo a sta b quello sta mettiamo il per in questo senso io so che 32 operai stanno a 12 giorni quindi scrivo 32 per 12 io lo risolvo sempre in questo modo quindi 32 sta a 12 però utilizzo il per come 48 sta a x quindi per x e questa è la mia equazione da risolvere in questo caso avrò che x è uguale a 32 per 12 come ho scritto qua ovviamente diviso 48 se io semplifico questa la svolgo velocemente posso semplificare per 12 qui da 1 e qui da 4 se faccio 32 diviso 4 uguale 8 risolto il quesito avendo questi concetti di logica matematica sarebbero serviti questa è la risposta sarebbero serviti forse 30 40 massimo 50 secondi per risolvere questo quesito vi è chiaro ragazzi spero di essere stato chiaro in questo ricordatevi che nella proporzionalità inversa si può scrivere il per e non sbagliate perché così non state a sbagliare dove mettere i medi dove mettere gli estremi all'interno di una proporzione perché non diviso perché è una regola è un segreto che vi sto dando io Miriam è una regola che io spiego ai miei corsi dove nella proporzionalità indiretta o inversa utilizziamo il per ed è facile hai visto un attimo fare il calcolo se si conosce questa regola allora Francesca bisogna analizzare poi quando ci sono più calcoli c'è una proporzionalità indiretta e una diretta probabilmente bisogna fare più passaggi ma qui era un solo passaggio esatto Andrea proprio così nella diretta mettiamo il diviso nell'indiretta mettiamo il per questo è il segreto è uno dei grandi segreti che insegna i miei corsi quindi oggi siete fortunati che ve lo sto dicendo capito così vi si apre un mondo risolvete tantissimi quesiti mi hai aperto un mondo vedi abbiamo abbiamo utilizzato anche la stessa terminologia ornella certo Sofì posso ripetere ma ricordatevi che questo video verrà salvato quindi tranquilli potetevi vedere quando volete il segreto di questo quesito è che nel proporzionalità diretta ancora diretta quindi accresce di uno cresce anche l'altro mettiamo sempre il diviso cioè se io devo dire che 10 libri costano 20 euro quanto costano 30 libri io metto 10 sta a 20 quindi 10 diviso 20 uguale 30 diviso x semplicemente così mentre nell'indiretta metto il per ok ragazzi continuo a risolvere i quesiti questo capita lo stesso molto spesso è un quesito della velocità ma ve l'ho voluto mettere perché gioca con i vettori allora vi dice che abbiamo una distanza da percorrere cioè due treni si vanno incontro e devono percorrere una distanza immaginiamo che sia questa che è di 480 chilometri un treno il primo va in questa direzione e va a 90 chilometri all'ora il secondo gli va incontro a una velocità però di 110 chilometri all'ora quindi sostanzialmente se sommiamo il percorso cioè se sommiamo il percorso che avranno compiuto per incontrarsi questi due treni avremo 480 ovviamente giusto? e allora ho cancellato una cosa per sbaglio scusatemi questa è ora ok allora in questo caso come ragioniamo? ragioniamo sempre con una semplice regola di fisica che bisogna sapere che è della velocità che la velocità è uguale a spazio fratto tempo basta semplicemente sapere questa e attivare un po' la testa allora innanzitutto possiamo immaginare che questi due treni che si vanno incontro che quindi si vanno incontro così possiamo immaginarli come un unico treno che deve percorrere lo spazio di 480 km dato dalla somma delle due velocità quindi dato che comunque questo spazio devono percorrere cioè lo spazio viene percorso da entrambi i treni però la somma dello spazio percorso darà 480 km spero di essermi spiegato in questo cioè un tot di km li farà quello che va a 90 quant'è un tot li farà quello che va a 110 ma se li sommiamo daranno 480 e noi possiamo immaginare come un unico treno per capire quanto ci mettono a incontrarsi possiamo immaginare un unico treno che va alla velocità di la somma di queste due velocità quindi di 200 km orari 200 km orari questo è un pochettino più complesso e seguitemi bene e che deve percorrere 480 km questo perché perché se noi immaginiamo un unico treno che va alla somma delle due velocità perché tanto si vanno incontro e quindi un unico treno che deve percorrere tutta la strada cioè tutti i 480 km capiamo dopo quanto tempo si incontrano quindi a questo punto abbiamo la velocità abbiamo lo spazio ci manca il tempo il tempo è dato da una formula inversa con spazio fratto velocità lo spazio ce l'abbiamo che è 480 la velocità ce l'abbiamo che è 200 e vi dico che questo qua dà 12 quinti se semplifichiamo 12 quinti di ora non ci interessa trasformarlo lasciamo 12 quinti di ora non ci interessa capire quante ore quanti minuti è 12 quinti di ora non ci interessa perché tanto dobbiamo calcolare alla fine lo spazio che ha percorso il primo treno quello che va a 90 a questo punto ragazzi ricordando che abbiamo la velocità e abbiamo capito anche dopo quanto tempo si incontrano cioè si incontrano dopo 12 quinti di ora possiamo calcolare lo spazio che ci mette il primo che percorre il primo treno prima di incontrare l'altro a questo punto si sa che lo spazio sempre formula inversa ragazzi lo spazio sarà dato alla velocità lo scrivo qua spazio uguale velocità per tempo la velocità ce l'abbiamo perché il primo treno ci dice il quesito che va a 90 90 mentre il tempo 12 quinti di ora non ci interessa trasformarlo quindi facciamo per 12 fratto 5 qua possiamo semplificare e qui viene 1 questo lo semplifichiamo e qui da 1 riporto 4 e fa 18 18 per 12 fa 216 questo era il più complicato che c'era probabilmente dei quesiti perché 90 90 perché ci dice a quale distanza si incontreranno rispetto al primo treno e sappiamo che il primo treno va a 90 km orari Daniele lo so che sembra più un quesito di fisica questo ma ricade io ve l'ho messo perché ricade sempre nei quesiti di logica matematica se vai a vedere gli anni scorsi c'erano proprio quesiti molto simili a questo ok grazie a te Sara che ci saluta quindi quando si incontrano sempre così Gianluca che parte non hai capito? esatto Gregoriana abbiamo sommato le due velocità per capire dopo quanto tempo si incontrano perché sostanzialmente il ragionamento iniziale che vi ho fatto è che la somma dei due percorsi dei due tratti percorsi dai due treni dara 480 km quindi possiamo immaginare anche un treno che va alla somma delle due velocità perché tanto si vanno incontro che deve percorrere però l'intero spazio cioè 480 è dovuto solo esclusivamente a questo mentre quando si rincorrono si sottraggono brava Sara ottimo bravissima è proprio così dopo aver trovato la velocità di 200 km orari devi calcolarti il tempo Gianluca vedi abbiamo trovato la velocità di 200 km orari ci calcoliamo il tempo che è dato dallo spazio che è 480 diviso 200 che è da 12 quinti e a quel punto una volta trovato il tempo vediamo quanto è lo spazio che percorre il primo treno il primo treno sappiamo che va a 90 il tempo è 12 quinti quindi facciamo 90 per 12 quinti che è da 216 i vettori si sommano nel senso che facciamo 110 più 90 perché quando è proprio la regola quando due treni si vanno incontro per calcolarlo li sommi mentre se uno insegue l'altro dobbiamo capire dopo quanto tempo si incontra noi immaginati che uno va a 90 e l'altro va a 110 si inseguono in questo caso facciamo 110 meno 90 perché quello che c'è dietro che sta inseguendo prende un vantaggio di 20 km ogni ora 110 meno 90 vi farò più avanti nelle prossime lezioni ragazzi magari vi faccio esempio anche su quello per ora continuiamo abbiamo quasi finito tanto eh ecco qua per esempio questo qui è un altro quesito di velocità ma bisognava ragionare abbiamo un ragazzo che parte alle 9 in punto del mattino in bici per recarsi al mare muovendosi alla velocità di 5 metri al secondo un suo amico parte in motorino dallo stesso punto però un quarto d'ora dopo dobbiamo ricordarlo e percorre la stessa strada e dopo 10 minuti dopo essere partito quindi impiega 10 minuti ecco qui importante anche questo dato a raggiungere il ragazzo che è partito alle 9 quindi sostanzialmente cosa capisco io da questo quesito capisco che questo ragazzo che io chiamo A si muove ovviamente a 5 metri al secondo me lo dice il quesito e so che praticamente dopo che lui ha percorso 25 minuti di questo tratto dati dal fatto che un quarto d'ora cioè dopo 25 minuti che comunque lui sta percorrendo si incontra con l'amico o meglio viene raggiunto dall'amico e in questo caso come arrivo a 25 minuti ci arrivo perché vedo che dopo un quarto d'ora quindi alle 9 e un quarto l'amico parte col motorino e probabilmente dopo 10 minuti quindi alle 9 e 25 lo raggiunge alle 9 e 25 A avrà percorso già un bel polistrada data dal fatto che dobbiamo andare a proporzionarla con 25 minuti ora vi rispiego tutto eh Mariangela quindi so che vi scrivo proprio A parte facciamo i passaggi A parte alle 9 alle 9 e 0 e 0 parte B invece parte alle 9 e 15 e B incontra A B incontra A alle 9 e 25 scusatemi alle 9 e 25 ok dopo 10 minuti dopo che è partito lui A quanta strada ha percorso alle 9 e 25 ora ce lo calcoliamo se percorre 5 metri al secondo in un minuto basta moltiplicare 5 per 60 avrà percorso 300 metri quindi fa 300 metri al minuto al minuto in 25 minuti che è il tempo che intercorre dalla sua partenza fino a quando non ha incontrato A quanto percorre basta fare 300 per 25 che dovrebbe dare 7500 eh fatemi fare un conto veloce a mente che non me lo ricordo però dovrebbe essere così 7500 da ok quindi se faccio 300 poi per 25 per capire quanta strada ha percorso A prima di essere raggiunto da B dall'amico da 7500 metri a questo punto è facile capire la velocità di B perché sappiamo che B impiega 10 minuti a percorrere la stessa strada che ha percorso A ok quindi impiega 10 minuti a percorrere 7500 metri 10 minuti sono velocità uguale spazio fratto tempo 10 minuti in secondi sono 600 secondi se ne facciamo 7500 diviso 600 facciamolo che non me lo ricordo quanto dà questo va via questo va via questo si può semplificare diviso 3 fa 2 mentre diviso 3 fa 25 25 diviso 2 fa 12,5 metri al secondo risolto il quesito allora leggo un po' le domande Beatrice perché 300 metri al minuto perché se fa 5 metri al secondo se moltiplico 5 per 60 cioè per 60 secondi che sono contenuti in un minuto farà 300 metri al minuto ok la stessa cosa perché A va a 5 metri al secondo che per 60 ah ok mi ha risposto ha risposto anche Riccardo grazie Riccardo ok poi 600 invece sono i secondi che derivano da 10 minuti cioè B l'amico ci mette 10 minuti a raggiungerlo a raggiungere A quindi B ci mette 10 minuti a percorrere 7500 metri 7500 metri cioè 10 minuti in secondi sono 600 secondi ed ecco risolto il fatto di la velocità riportata in metri al secondo quindi 7500 metri fratto 600 secondi darà 12,5 metri al secondo ok ragazzi spero che mi abbiate seguito ricordatevi sempre che ci sono queste registrazioni non hai capito perché 25 Francesca 25 perché A parte alle 9 B parte alle 9,15 e B raggiunge A alle 9,25 quindi A prima di essere raggiunto da B ha camminato per 25 minuti e in 25 minuti A ha percorso 7500 metri mentre B che è partito alle 9,15 ci ha messo 10 minuti a raggiungere A è partito dallo stesso punto di A e quindi 7500 metri li ha percorsi in 10 minuti che sono 600 secondi e quindi facendo velocità, spazio e varato tempo da 12,5 metri al secondo continuano ad andare avanti ragazzi allora vediamo il prossimo quesito super facile questo ragazzi vi insegno un piccolo segreto che magari lo sapete già ma ve lo rendo un po' più chiaro ricordatevi sempre che un anno è uguale sapete a quanto? è uguale a 52 settimane più un giorno mentre gli anni bisestili gli anni bisestili sono uguali a 52 settimane qui vi metto più due giorni ok? questo per cosa vi serve sapere? vi serve sapere infatti per è utile questa regola perché? perché quest'anno che è 2020 supponiamo che il 15 agosto non lo so questa è una supposizione non ho guardato il calendario cade di martedì se so che tra il 2020 il 2021 non c'è a cavallo l'anno bisestile si è 2020 ma febbraio è già passato quindi non lo conto come un anno bisestile perché ho già passato febbraio se dal quindi devo contare 52 settimane un giorno saprò che se quest'anno è martedì il prossimo anno il 15 agosto sarà di mercoledì mentre badate bene ragazzi non litigate se non vi banno guai rispetto in chat ragazzi non intervengo però rispettiamoci tutti allora una cosa state attenti alle spiegazioni che sono molto più utili di litigare quello che vi dicevo è che se invece vi avessi fatto anzi ora rispondetemi voi se avessimo utilizzato l'anno scorso quindi il 2019 vi avessi detto il 2019 il 15 agosto cade di martedì quest'anno quando di che giorno sarà bravi e il prossimo se l'anno scorso 2019 cadeva di martedì nel 2021 che giorno sarà per agosto top ci siete bravi 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 quindi cosa vuol dire questo vuol dire semplicemente che se siamo a cavallo di un anno bisestile quindi siamo prima di febbraio prima del 28 anzi di febbraio cioè dove cadono i due giorni dobbiamo considerare l'anno come 52 settimane più due giorni se invece è prima se invece è dopo consideriamo un giorno quindi semplicemente quest'anno è già passato febbraio il 15 agosto di martedì il prossimo anno sarà 2021 non c'è in mezzo febbraio bisestile perché era l'anno prima era quest'anno e consideriamo solo un giorno quindi sarà di mercoledì ok? di mercoledì o di giovedì potrebbe essere se non vi avessi detto quest'anno se vi avessi dato un anno generico non può essere perché sappiamo che quest'anno era bisestile ma Ferragosto è dopo ok? c'è una risposta precisa ragazzi per quello non poteva essere la E ok no ragazzi vi ho messo quest'anno vedo che qualcuno fa qualche obiezione vi ho messo proprio quest'anno inteso come ora però ci sta deve essere specificato quindi sono giuste anche le vostre obiezioni tranquilli quest'anno 2020 sì comunque a me mi interessa ragazzi capiate il ragionamento mi interessa che abbiate in testa il ragionamento perché sono piccole sottigliezze che sono tanto importanti ma tanto importanti per capire questi quesiti perché i quesiti sono sempre tutti simili quindi quando imparate a farli sarete fortissimi in logica vedevo gente che all'inizio si disperava anche qui oggi spero che usciate convinti del fatto che davvero si può migliorare tra l'altro nei miei corsi aiuto tanto spesso i ragazzi quindi tutti avranno grossi miglioramenti mentre questo quesito qui quanti giovedì possono esserci al massimo in 45 giorni consecutivi dobbiamo calcolare il numero massimo di giovedì in 45 giorni io mi immagino che il primo giorno che inizia a contare sia un giovedì quindi dopo una settimana l'otto sarà lo stesso l'ottavo giorno sarà il giovedì poi avremo il 15 che sarà lo stesso di giovedì il 22 di giovedì faccio la somma aggiungo sempre 7 giorni il 29 sarà il giovedì il 36 sarà il giovedì e poi avrò il 43 giorno il giovedì quanti sono? 1 2 3 4 5 6 e 7 risposta corretta 7 super facile vediamo l'ultimo allora l'ultimo era un po' ingannevole perché bisognava un attimo cercare di arrotondare una cifra mettiamola così ma ve lo faccio molto velocemente noi abbiamo una soggiorno la pavimentare innanzitutto vediamo che qui l'unità di misura è in centimetri e qui in metri vi consiglio sempre di andare a trasformarvele da subito nella stessa unità di misura a questo punto scrivo 400 per 320 perché ho trasformato 4 metri in 400 centimetri e 3,2 in 320 centimetri e mi sto calcolando l'aria non ve l'ho detto ma mi sto calcolando l'aria di questa superficie da pavimentare che è 128 mila centimetri quadri eccolo qua mentre una mattonella la mattonella so che è di aria 30 per 30 questo era un 3 30 per 30 che è uguale a 900 centimetri quadri ora per capire quante mattonelle mi servono basta fare il rapporto di 128 mila 128 mila diviso 900 questo va via questo va via e rimane 1280 diviso 9 che vi dico già che fa circa 143 che bisogna varattondare 143 circa se io dovessi fare 143 per il prezzo di ogni mattonella quindi 143 mi è partita la penna scusate 143 per 5 da semplicemente 715 finito il quesito cioè so che uso 143 mattonelle se le moltiplico per 5 mi da 715 finisce certo marzia spero ok eccolo qua era questa la spiegazione dell'ultimo quesito ho calcolato quanti giovedì supponendo che il primo giorno che inizia a contare di giovedì quanti giovedì ci sono in 45 giorni e da 1 2 3 4 5 6 e 7 si Gianluca giusto ditemi se sono stato chiaro ragazzi perché in teoria abbiamo finito i nostri quesiti se volete abbiamo sporato di 5 minuti le 8 però ve l'avevo detto avremo finito alle 20 circa e più o meno ci siamo spero di esservi stato utile spero che vi sia piaciuto il webinar spero che siate stati super interessati e sarete collegati anche la settimana prossima vi ricordo che venerdì prossimo abbiamo l'altro webinar tra l'altro vorrei organizzare se avete bisogno di aiuto vorrei organizzare semplicemente anche delle chiamate personali io qualcuno di voi l'ho già sentito ma potrete organizzare delle chiamate con me ovviamente a titolo gratuito io vi aiuto volentieri vi espongo anche quali sono tra l'altro i prodotti che wow ha vi può dare in forma gratuita mentre anche quali sono sotto forma di pagamento ma come vedete siamo tutti super super formati partendo dai tutor ricordando che molte lezioni le fanno proprio i docenti universitari quindi abbiamo docenti super preparati che fanno le lezioni noi tutor io ormai faccio anche le docenze essendo praticamente già medico ma come avete visto prima era presente anche Giuseppe che è super preparato in cultura generale quindi se avete dubbi volete consigli volete acquistare o comunque dovrete fare il test a settembre bene vi stiamo dimostrando che la nostra preparazione è questa quindi saremo ben contenti di avervi nei nostri corsi assolutamente grazie a Dani Dani figurati le discussioni nei commenti ci stanno sempre io cerco di far vedere realmente che voglio aiutare i ragazzi un giorno si hai proprio scritto così abbiamo avuto una discussione ma figurati sono contento che ti sia ricreduto dove posso trovare le registrazioni le caricheremo su YouTube ragazzi dateci il tempo oggi è venerdì se riusciamo le carichiamo domani che è già sabato se non lunedì ok mi potete contattare semplicemente scrivendomi nella pagina wow nella pagina di tutor tutor wow se scrivete in direct anche io gestisco quella pagina ma i miei tutor mi diranno che mi state cercando e quindi ci sentiamo là assolutamente contattatemi là ok ragazzi grazie a voi è stato un piacere se non avete altre domande direi di terminare quel webinar aspettate prima che mi si spenga il computer che attacco ecco qua attacco il computer a caricare che stava per spegnere ok potresti far vedere l'ultima slide per favore certo eccola qua è proprio questa intendi questa Gaia non so se me l'hai scritto tu ah no Gregoriana me l'ha scritto Gaia cosa mi chiedevi ho visto che hai letto il webinar grazie mille comunque grazie a voi ragazzi per essere stati tutti collegati vi ripeto siamo sempre super a disposizione anzi in questo periodo ancora più particolare ci teniamo a offrirvi queste queste consulenze gratuitamente questi webinar e tutto quello che possiamo fare ovviamente per aiutare chiunque sì Gregoriana non dal sito ma dalla pagina Instagram se non è Instagram puoi scrivere su sui gruppi Whatsapp di Wow University sulla pagina Facebook di Wow University sul sito di Wow University ci trovi ovunque assolutamente sempre tutti venerdì alle 18 esatto Mariangela ricordatevi vi invieremo come al solito l'invito come vi è arrivato questa volta lo pubblichiamo nei gruppi su Instagram su Whatsapp quindi seguiteci ovunque vi pubblicheremo l'invito per partecipare anche al prossimo webinar di venerdì anzi invitate più persone se mi volete aiutare invitate più persone possibile invitate amici fateli entrare in contatto con noi che siamo ben contenti di aiutare chiunque ragazzi vedo che qualcuno scrive quindi aspetto allora inizieremo sempre con cultura generale non mi ricordo la prossima settimana vi arriverà forse trattiamo qualcosa di biologia ma non ricordo bene al momento vi faremo ovviamente sapere sicuramente iniziamo sempre con cultura generale magari la prossima settimana tagliamo un po' oggi ci siamo dilungati un po' tanto con cultura generale dovrebbe essere bioenergetica esatto Irene dovrebbe essere bioenergetica la prossima settimana grazie ve la farò sempre io biologia quindi spero che vi troviate bene come spiego chi non ha un paio di giorni fa ho fatto anzi un paio di settimane fa ho fatto webinar su anatomia in realtà virtuale con elementi di anatomia umana vera dove sono foto bioptiche che ho scatato io se volete vi era piaciuto faremo uno anche su quello ok scrivici scrivici se hai facebook o se hai instagram scrivici lì così ti indiamo il link per accedere ai gruppi ok grazie grazie ragazzi bene penso che possiamo avere concluso grazie 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 grazie